Cos'è sto bagno? Cos'è sto bagno? Cazzo sei in un cesso pubblico? Che vai a cagare con uno di fianco? Che è praticamente il vito di una casa da 39 milioni. E il problema di sta cosa è che non è proprio il massimo. Cioè la prima volta che voglio andarmi a fare un bagno lì tiro una botta di coglioni sull'angolo della vasca che rimango lì per sempre. Ok allora nella vasca ci lascio i coglioni e qua ci lascio i denti perché se devo scendere queste scale mi ammazzo. Come cazzo fai a scendere queste scale? Non vedi niente? Ti fai l'illusione ottica sai di quelle che vanno su e giù? Come cazzo fai? Cos'è sto bagno? Cos'è sto bagno? Cos'è sto bagno? Non me lo spiegate? Cazzo sei in un cesso pubblico? Che vai a cagare con uno di fianco? Ma perché? A parte che anche qua c'è l'illusione ottica. C'è un gradino secondo voi qua? C'è un gradino? O è tipo l'illusione ottica del pavimento? Cos'è? C'è perché allora ricapitoliamo nella vasca ci lascio i coglioni giù per la scale i denti qua tipo non capisco niente mi imbalzo e mi metto a pisciarmi in faccia da solo senza ok questi vanno bagni di coppia mi sbordano in bagno solo in coppia va bene questo credo che sia un lavandino? lavandino? È un lavandino o un bidet che lo cavalchi a mo' di cavallo? 4 camini 4 camini aspetta devo processare tutto quanto con calma allora intanto 4 camini va bene ok mi spiegheranno cosa cazzo servono 4 camini in centro a a Manhattan se tu spendi 39 milioni per avere queste cose sotto al culo ma le vedete anche voi ma cos'è sta roba? come ti ci siedi qua sopra? Sembra una tortura medievale? come cazzo ti ci siedi qua sopra? vabbè allora questa ammetto che sia una figata non so cosa serva non so niente ma questa è una figata ok perché sembra una roba molto alla signora degli anelli dove ci fai le assemblee fra i nani tipo sedie comunque sempre che sembrano dicadre uno scomodo che fanno schifo a parte che sembrano di marmo anche le sedie siamo a un minuto di questo video ed è già una bomba entertaining area c'è l'area divertimento a parte che anche queste sedie queste poltroni sembrano una cosa scomodissima cioè sembra tipo apri The Sims e compri cose a casa le metti dentro un po' la cazza di cane quello che ti capita da comprare le sbatti dentro su una casa di The Sims che cazzo è la roba attaccata al muro? mi son perso ah questa non lo so effettivamente adesso che me l'hai ricordato non lo so sarà un mistero tipo le conchiglie di Demolition Man non ne ho veramente idea ma poi cos'è l'entertaining area? cosa? ma cos'è? ah ok c'è il buco non lo vedevo qua cosa sono ste coppette? la papà è che poi taglia la gola se per sbaglio c'è un bimbo che corre troppo veloce si taglia la gola lì e allora sicuramente è molto figa cioè se prendi le cose singole in realtà sono abbastanza fighe di per sé tranne sto cammino che è una merda sta roba di tono fa abbastanza schifo il problema è che è tutto messo insieme è che non c'entra un cazzo ok finalmente fa vedere come ci si diverte qua in sto posto che comunque ci sta facendo rivedere sempre sono sempre le stesse quattro immagini girate se fosse costato 35 le avrei comprato se effettivamente ci si poteva pensare capito? non abbiamo mai visto un appartamento a New York con un cammino fuori chissà perché con le sedie di tortura medievale con delle candele che è impossibile accendere con una ciminiera dietro cioè perché vedi prese singolarmente le cose cioè finalmente sono belle non gli può mica dire niente cioè è figa punto è che sembrano tipo tanti pezzettini di casa attaccati l'uno con l'altro cioè non c'entra un cazzo nel complesso una bellissima una bellissima vista sì è proprio fantastica che puoi spiare con un binocolo quella che si spoglia dall'altra parte del cortile due dressing room attenzione che però non riesci a usare perché non ti ricordi dove sono le maniglie perché si mimetizzano nelle pareti ma che questa si eccita a toccare il marmo cioè c'entra a fare e poi cambia stanze come entrare in un'altra dimensione voglio vedere se mi spiega perché ci sono due bagni comunque che tra l'altro c'è la vasca che è piccolissima è tutto doppio e poi c'è la vasca che ha un buco e ci sta mezza persona sono due lavandini due cessi due bidet due tutta una vasca che fa schifo gym che gym gran palestra comunque per per 39 milioni avere una cicletta e un tapirulan pronto ti rimetti in forma in un mese ma non c'è niente nel terzo piano mi sono perso scusate c'è un cesso la terrazza dove vedi sempre il ciminiere dietro ah c'è un muro verde me coglioni ah il main entertaining lab cioè qua dove ci si diverte di più madonna c'hanno una cazzo di tavola che ci fanno le regnioni con i cavalieri madonna ma che roba è ma tra l'altro con una mano ma è che che non l'avevo mica vista prima sta roba vedi che cattivo gusto sono ste due mani giganti ma cos'è ma che vista c'hai che vedi una mezza strada con degli alberi rissecchiti dietro e degli edifici ma cosa vuol dire che è una bella vista cos'è sta cosa poi qualcuno mi spiega cos'è perché non ho veramente idea ma cos'è è un'opera d'arte o una poltrona cos'è come fai a usare questa cosa ed è uno stile completamente diverso questo a parte che mi fa cagare ma può essere un gusto personale ma quanti cazzo di cassetti c'hanno poi quattro forni 200 cioè vedi questo non c'è un cazzo da fare questo cliccava sulle cose sì dammi questo dammi questo dammi questo sì quattro forni quattro camini due bagni 72 posti a tavola intanto c'erano gli architetti che impazzivano non capivano se era sotto effetto di qualche droga o che cosa il prossimo quadro di l'ho appoggiato sulla poltrona in carcere andava bene sta cucina sì è una roba super inquietante la smetti e faici vedere sta vista fa schifo sta vista fatene una ragione non lo vendiamo in Central Park non lo vendiamo in Central Park si vedono due alberi in secchiti e basta ottimo primo piano sulle mani della tipa con un tappeto che non si sa che cazzo era attaccata la parete la libreria col proprio cammino giustamente perché media room ma sono letti sono una specie di divano letto dove tipo non ti puoi appoggiare perché c'è il marmo dietro e quindi ti sfondi la testa sei completamente decentrato dalla tv cioè tipo devi guardarla così con la testa girata quindi non vedi un cazzo tra l'altro quanto hanno speso per fare sta casa e risparmiano sul monitor ci hanno messo quel monitorino di merda questo è un carcere tipo cioè non hai spazio per muoverti cioè puoi solo sederti su quella poltrona in questa stanza vabbè comunque niente è stata un'esperienza abbastanza interessante vedevo che tutti ne parlavano su reddit di questa casa e non capivo come mai potesse essere considerata così brutta commenti però sono dalla nostra parte perché il primo commento è è questo un bagno che non vedrete da nessun'altra parte grazie a dio fortunatamente uno può comprare di tutto con i soldi ma non di buon gusto dopo questa emozionante avventura direi che possiamo andare a giocare al giochino di merda a giochino a giochino a giochino a giochino